Ben ritrovati dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per lavori con corsie di destra chiuse tra Firenze in Pluneta e Firenze Scandici. Chiuso lo svincolo di Firenze in Pluneta in uscita provenendo da Roma e in entrata verso Bologna. Tra incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna, coda per traffico intenso. Tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma, rallentamenti dovuti alla presenza di un mezzo pesante, fermo e in carreggiata. In FIPRI, per lavori tra Ginesta Fiorentina e la Strassigna, rallentamenti e code con tendenza all'aumento in entrambe le direzioni. In A11 tra Sesto Fiorentino e il BVO 11 Firenze Nord, disagi dovuti a materiali dispersi in carreggiata. In A12 tra Carrara e Massa, in direzione Livorno, coda per incidente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie a tutti!